Siamo al Vespucci 20 questa sera, stiamo seguendo in esclusiva le riprese del videoclip San Baudo Brasil che avevamo già anticipato con Frankie Harper. Io però stasera ho la fortuna di essere con la famiglia Harper, ossia con Frankie ma anche con Tony che è l'altra metà di Frankie Harper. Quindi approfitto di questa occasione e tanto per cominciare, ciao Tony! Ciao! Io avrei voglia di chiederti qualcosa sul pezzo, su quello che rappresenta, su quando l'hai composto, insomma a tua discrezione qualcosa di più su San Baudo Brasil? Ma guarda il pezzo, il titolo è San Baudo Brasil innanzitutto, poi quando l'ho scritto non mi ricordo precisamente, quando l'ho scritto anni fa comunque, anni fa cosa volevo dire, no non mi ricordo, cosa volevo dire Frankie, quel pezzo lì. Frankie non si ricorda, te l'altra volta non ti ricordavi? Come ne esco io da questa cosa? Non ci ricordiamo! Non si ricorda, non si ricorda. Poco, poco, qualcosa, poco, qualcosina. Parla del Brasile, di una ragazza brasiliana che noi abbiamo conosciuto in una discoteca, poi uno si ascolta il pezzo, da lì c'è tutta una trama che si evolve, spiegherà poi nel pezzo... Lo dobbiamo ascoltare, insomma. Va bene, allora provo a passare a Frankie, non mi andrà molto meglio. Frankie, qualcosa invece sull'album? So che c'è un album. Sì, l'album è in prossima uscita dopo il tour estivo che faremo con Radio Birichini e Radio Bella e Monella, sarà, diciamo, il titolo dell'album in esclusiva, qua per i nostri amici di Chuck, si gira? Lo diciamo? Sì, ma non lo dite nessuno, no? No, assolutamente. Il titolo dell'album sarà The Best Of Frankie Harper. Addirittura? Addirittura? Non potevate partire da un scalino un po' più basso? The Best Of è il meglio che potevamo fare, quindi The Best Of Frankie Harper. Perfetto. Quindi l'album, insomma, quando cominceremo a sentirlo, quando cominceremo a sapere qualcosina di più? Tony. Quando, sinceramente, credo dopo l'estate o durante l'estate, ma questo si dovrà vedere perché non dipende solo da noi, dipende da altri fattori. Eh, quello purtroppo bisogna... Dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare. Però arriverà, quando meno ve lo aspettate arriverà. Arriverà. Io vorrei... ok, io vorrei un commento ciascuno. Frankie su Tony. Quando meno te l'aspetti, come una bomba. Cioè, cosa ti devo dire? È arrivato Tony, così, bello, fresco. Bello e fresco, come una rosa. È arrivato il grande Tony e ha riempito la vita di Frankie. Tony, su Frankie? Allora, ringrazio per il bello, che è già la seconda persona, dove mia mamma, che me lo dice. Questo mi fa molto piacere. Fresco, insomma. Però confermo il fatto che... Da Roma, novembre 2009, è cambiato tutto. Per me. Direi, insomma, che hanno detto tutto e seguiamo ancora le riprese. Grazie.